Mi sono piaciute molto queste tendenze, le trovo molto attuali. Mi è piaciuto molto il link tra paesi apparentemente così diversi, ma poi in fondo così collegati. Le trovo molto ispirate, mi piace anche il link con le tendenze della stagione passata, creare questo aspetto di continuità e specialmente un occhio verso l'ecosostenibilità del progetto. Grazie a tutti.